Siamo in compagnia di Gino Gelmi, coordinatore provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà. Gino Gelmi, le primarie del PD incombono. Nichi Vendola, quali prospettive ha? Nichi Vendola e i comitati che lo sostengono ha accettato di candidarsi alle primarie perché vuol proporre dei contenuti, delle proposte di merito che siano capaci di dare un segnale di svolta rispetto a un paese che ha bisogno di una politica diversa. I tecnici hanno portato le condizioni di vita attraverso delle misure di rigore a un punto tale che la gente fa davvero fatica a tirare avanti. Non solo per i giovani, le donne che sono espulse in modo maggiore, sempre maggiore dal mercato del lavoro, i redditi disponibili per i consumi sono sempre più bassi, le imprese faticano ad avere il credito. C'è una situazione nel paese veramente pesante. O ci sarà una svolta politica che rilanci l'economia a partire proprio da una diversa distribuzione del reddito tra lavoro e rendita finanziaria e immobiliare o altrimenti rischiamo veramente di arrivare a situazioni insostenibili con risvolti come in Grecia, Spagna eccetera. Gelmi, quali sono gli appuntamenti che voi avete programmato per appunto sostenere questa iniziativa? In quattro giorni abbiamo raccolto in provincia di Bergamo 350 firme, quindi vuol dire che c'è un'attenzione molto più ampia rispetto alla semplice partito di SEL e quindi stiamo lavorando con degli appuntamenti anche di contenuto. A Nembro, martedì prossimo, in Sala Bonorandi, faremo una serata con le ACLI, con la CISL e con la CGL proprio per discutere i temi del lavoro, temi che anche qua sul territorio di Albino stanno prendendo dei risvolti veramente preoccupanti. Qualcuno mormora anche a livello locale che ci sono dei gruppi, il suo, che condizionano l'amministrazione Carrara. Cosa ci può dire? No, noi collaboriamo con l'amministrazione Carrara perché Carrara non ha bisogno di essere condizionato, c'è un programma elettorale iniziale che noi abbiamo condiviso, al limite il nostro ruolo è quello di spingere perché venga realizzato, pur sapendo che oggi le finanze locali sono in condizioni tali da rendere davvero difficile per i comuni, compreso il comune di Albino, la realizzazione di opere di cui la popolazione avrebbe davvero bisogno. Per quanto riguarda il fatto occupazionale ad Albino? Dicevo prima che la situazione anche produttiva del mondo del lavoro è estremamente preoccupante, l'ultima vicenda degli Oneger è arrivata al capolinea con una soluzione che addirittura mette in discussione, siamo partiti dall'ITES Campus con 600 dipendenti promessi, incrementi occupazionali, siamo arrivati adesso al mantenimento qualche anno fa delle condizioni attuali, adesso addirittura la chiusura e la messa in integrazione di tutti i lavoratori. Credo che non sia un'impresa che si comporta seriamente, credo che le banche debbano trovare delle soluzioni tipo una forma quasi di commissariamento perché se come dicono ci sono le commesse evidentemente diventa un problema di capacità di gestione e quindi le banche che sono esposte devono trovare il sistema per garantire l'occupazione senza ricorrere a speculazioni edilizie e quant'altro che non appartengono a chi vuol fare l'imprenditore davvero. Grazie a Gino Gelmi da Albino lì nello studio.